Lasciare la propria orma ha significato far sì che considerassero lo spazio di Rosy Boa non come semplice contenitore dove appendere i loro quadri, ma come supporto espressivo, quindi fare in modo che Rosy Boa diventasse proprio parte integrante della loro opera. L'orma che vedi è la mia, questo è il titolo della mostra negli spazi di Rosy Boa, una collettiva di alcuni tra i nomi della scena artistica italiana più interessanti, Elisabetta Caizzi Marini, Federica Gonnelli, Ilaria Margutti ed Elisa Zadi. L'arte riflette appunto quello che succede di fatto nell'interazione tra le persone, non è più possibile pensare di fare sempre monologhi, forse è il caso di fare un dialogo. L'esposizione prende le mosse dall'idea di utilizzare gli stimolanti spazi di Rosy Boa non come contenitore ma come supporto espressivo, facendo quindi interagire l'artista con lo spazio e con il pubblico. In questo modo le artiste hanno fatto sì che Rosy Boa appunto presentasse delle vere e proprie installazioni, molto simili a quelle che loro effettivamente hanno nei loro studio, presentano nei vari progetti, e non avevano soltanto questo compito ma anche il compito di far sì che il visitatore lasciasse la propria orma, cosa quindi ancora più complessa che ci ha portato a realizzare tutta una serie di appuntamenti nei quali vengono qui le artiste e interagiscono con il pubblico, cioè un pubblico non più visitatore passivo ma un pubblico che proprio interferisce nell'opera, lascia la propria orma.